Come si è presentato la ricerca consueta realizzata da Clusy da 5 anni, relativa agli incidenti di sicurezza più gravi avvenuti nel mondo di dominio pubblico, quindi tratti da fonti aperte e naturalmente quindi questo campione rappresenta solo la punta dell'iceberg di un problema certamente molto più grande, ci riferiamo noi però solamente agli attacchi di cui si ha notizia. Quello che emerge dall'analisi di quest'anno è che in termini assoluti il numero di attacchi gravi nel mondo è aumentato nel 2015, in particolare è aumentato di un 14%, questo in base alle nostre estime, è un valore indicativo ma sicuramente indica una crescita e in particolare sono aumentati il cyber crime rispetto all'anno precedente, quindi le attività cyber criminali sono aumentate di un 30% e di un 40%, anche se i numeri assoluti sono di meno, le attività legate a fenomeni di spionaggio tramite Internet. Dal punto di vista delle vittime si segnala il fatto che la categoria dei servizi online, quindi social media, web mail, piattaforme di backup di dati in cloud etc., sono state particolarmente attaccate, c'è una crescita percentualmente significativa degli attacchi alle infrastrutture critiche, anche se per fortuna in termini assoluti questi attacchi sono pochi e abbiamo introdotto anche delle nuove categorie di vittime, per esempio quella dell'ospitalità, perché l'anno scorso sono stati attaccati diversi alberghi e strutture ricettive tramite le quali poi i criminali attaccano i clienti, quindi per esempio attaccando il sistema di Wi-Fi di un albergo si possono poi colpire i clienti dell'albergo che si collegano a quel sistema Wi-Fi. Continuano a rimanere sempre molto attuali tutte quelle campagne di ransomware, quindi di estorsione tramite software per cui si infetta la macchina di una vittima, si cifrano tutti i dati e poi si chiede un riscatto per liberare questi dati, cioè fornire la password di cifratura, questo è un fenomeno in grande crescita, si è detto oggi durante il convegno che è anche di difficile gestione, quello che io ho sostenuto è che l'unico modo per ridurre questo fenomeno è che le persone, le organizzazioni si mettano nella condizione di non dover pagare il riscatto facendo correttamente backup e mantenendo i propri sistemi in sicurezza.